Il tema molto scottante è quello dell'immigrazione. Lampedusa è di fatto il nostro confine, ma anche quello europeo. Allora, qual è, secondo la Lega Nord, il ruolo che l'Europa dovrebbe svolgere in questa drammatica vicenda dei migranti che arrivano sulle nostre coste? A Salvini, 60 secondi. Chi sceglierà Lega domenica prossima fa una scelta chiara, precisa, coraggiosa. L'immigrazione clandestina va fermata, le partenze vanno bloccate, l'operazione Mare Nostrum va cancellata. Noi stiamo dando 40 euro al giorno per vitto e alloggio, spesso in albergo, a chi sta sbarcando adesso e diamo 10 euro al giorno ai disabili che sono nati in Italia. Mi sembra follia. Aiutiamoli là, con questi soldi, con 10 milioni in Africa ci fai villaggi, ci fai strade, scuole, ospedali. La Lega dice che ognuno deve essere tranquillo, sereno, a casa sua. E quindi abbiamo un referendum in tutti i comuni italiani e questo lo suggerisco a chi ci sta guardando. Se voi ritenete che l'immigrazione vada controllata e la clandestinità debba essere un reato, come in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, andate in Comune oggi a firmare il referendum della Lega. Piccolo inciso, l'Euro sta massacrando 8 mila piccole imprese in Italia che chiudono ogni mese. Quindi peggio di così sicuramente non si può stare. Piccolo inciso, l'Euro sta massacrando 8 milioni in Italia che chiudono ogni mese.